Io facevo bioenergetica gestata e poi ho conosciuto il famoso Brasile con queste esperienze diciamo così di stati di coscienza non ordinari e quindi a poco poco è nata dentro di me questa esplorazione delle dimensioni transpersonali e questo ha portato a fondare nel mio caso specifico la bioenergetica che è un approccio transpersonale però a muovermi all'interno del mondo del transpersonale quindi a conoscere una dimensione estremamente vasta per cui che io partirei dal termine transpersonale quindi il termine trans è un prefisso che contiene in sé tre significati profondi il primo è oltre quindi oltre cosa potremmo dire oltre la mente potremmo dire oltre l'io potremmo dire oltre i confini quindi questo termine già introduce un aspetto che è stati di coscienza se noi consideriamo l'esistenza di stati di coscienza più espansi o sovra razionali consideriamo l'esistenza di mondi diversi il sé nella psichiatria transpersonale considera viene considerato l'archetipo dell'unità quindi l'archetipo nel quale sono contenute le potenzialità più elevate dell'individuo dove è considerato quelle dimensioni ineffabili dove gli angeli esitano direbbe bezza no tutta quella dimensione che poi possiamo chiamare spirituale o comunque delle qualità più elevate dell'individuo il fatto di concepire dei stati di coscienza ci fa concepire dimensioni del sé ineffabili dimensioni del sé che contengono qualità che in termini tra virgolette scientifici secondo un'epistemologia della complessità potremmo dire o anche semplicemente jungiana ci parla di archetipi il lavoro della psicologia transpersonale considera non solo l'individuo ma vede in ogni individuo l'archetipo che è in gioco per vedere l'archetipo che è in gioco devi in qualche modo fare un salto di coscienza per esempio non vedi solo l'adolescente incazzato vedi il guerriero in viaggio se tu lo consideri questo come una manifestazione del sé tu hai già la linea evolutiva del processo del processo terapeutico che va da l'ira funesta del periodo d'achille cioè dalla rabbia cieca a il guerriero di luce che è oltre la guerra che è il cuore che ha combattuto i suoi demoni interiori ha realizzato il sé qua c'è il ragazzino arrabbiato ma tu vedi tutto il processo e quindi hai a disposizione una linea di intervento che già ti dice che se tu ti allei al sé principio unificante olotropico che tende verso l'unità puoi accompagnare questa persona verso il suo guerriero di luce parliamo gli stati di coscienza perché diciamo guarda oltre che non è bypass spirituale non è sì vabbè tanto siamo tutti anime di luce ma è in quella proprio lì proprio in quella rabbia in quella bullismo in quella dimensione di impotenza violenta c'è già il seme della guerriero di luce e quindi ci colleghiamo anche un altro aspetto che è la filosofia perenne ovviamente questo approccio non è anche se è nato negli anni sessanta sull'onda dei movimenti in california dei movimenti dei potenziali umani via di seguito si ricollega ovviamente a la filosofia perenne quindi alle tradizioni originarie come per esempio plotino plotino ci dice una ghianda non è un peccato non è ancora una quercia e così vedila rispetto al discorso che abbiamo prima il ragazzo arrabbiato non è un problema o l'adolescente deviante non è un problema semplicemente ma è un eroe in viaggio che non si è ancora realizzato quindi potremmo dire quindi che ciò che caratterizza la psicologia interpersonale la psicologia interpersonale è intanto lo sguardo sguardo tengo tendo a guardare con uno sguardo che va oltre questo andare oltre però è un trascendere includere non è un escludere non è un andare via da tutta la dimensione funzionale su tutti i livelli organismici ma è attraverso quelli tu vedi nel modo di respirare tu vedi ma anche nel dolore al ginocchio nella postura tu vedi già l'eroe in viaggio vedi già qual è l'archetipo in gioco vedi se è il guerriero il cavaliere vedi se è il viandante vedi se è il cacciatore e allora ogni intervento ogni manifestazione fisiologica dio psico fisiologica sui vari noi chiamiamo i cinque livelli fisico energetico emotivo mentale e spirituale ognuno dei veicoli fisico emotivo energetico mental e spirituale con i suoi contenuti ti parla è una porta che ti parla del sé e quindi ti parla dell'archetipo in gioco per cui capisci che il tuo intervento è come se trovasse un'onda di coscienza che ti accompagna nel processo trasformativo per cui il terapeuta diventa colui che si allea al processo ovviamente che si allea al sé aiuta il cliente paziente a riconoscere come interrompe come si separa dal suo seno e quindi potremmo dire che ogni patologia è distanza dal sé ogni guarigione è riconnessione con il sé da questo punto di vista ma siamo solo al primo senso di significato di trance che è l'andare oltre il secondo è pervadere trance pervade quindi tutti i vari livelli sono ovviamente pervasi da se ogni esperienza è integrale a me piace il termine integrale più che integrato perché integrato dice che metto assieme le cose integrale vuol dire che io colgo l'unità delle cose perché le cose sono già insieme se tu hai questo sguardo oltre la mente attraverso una coscienza dell'unità tu cogli l'integralità di ogni cosa il sé che si manifesta nelle sue parti però se io lo sguardo integrale che coglie l'unità ancora una volta io la possibilità di agire su tutti i corpi contemporaneamente di favorire la trasformazione su tutti i piani se una persona mi porta al suo sentire corporeo favorirò in lui la comprensione di quello che sta avendo sul piano energetico e sul piano emotivo e sul piano mentale cognitivo e sul piano transpersonale e così via se una persona mi porta un'immagine vedrò nel corpo dove succede questa immagine e qual è l'emozione che collegata quindi la metodologia la metodologia che attraverso diversi tipi di interventi compreso il tocco il soffio il respiro il movimento il suono la parola ovviamente la visione favorirà l'esperienza integrale su tutti i corpi e favorirà il terzo significato di transpersonale che è di trans che è trasformazione favorirà la trasformazione favorirà il riconoscere che ovviamente come sappiamo come ci dice la fisica ma come ci dice la tradizione antica e tutto è interconnesso tutto è un flusso dinamico interconnesso in incestante trasformazione se tutto è un flusso dinamico interconnesso in incestante trasformazione regolato da un principio che è il principio del sé ancora una volta io mi dovrò sempre semplicemente alleare al processo trasformativo quindi quello che si cura in un'ottica transpersonale non è la persona ma è il processo ma questo processo non è solo il processo che avviene nel paziente il processo che avviene nel campo si direbbe la relazione ma la relazione in un'ottica transpersonale 3 non è 2 la relazione non è io e te la relazione è io te e il campo perché un altro dei punti cruciali del transpersonale è che ma questo è una banalità della visione diciamo così del paradigma olistico che la la totalità è più della somma delle parti no quindi questo quid che avviene quando due parti entrano in relazione è il transpersonale quello che succede tra me e te nel campo che si crea è una dimensione ineffabile una dimensione transpersonale allora io devo avere lo sguardo per riconoscerlo e gli strumenti per operarci ovviamente che sono tra gli altri come dicevo stato di coscienza e archetipi ma anche il considerare quindi non cadere nell'agguato che io terapeuta risolvo il tuo problema attraverso un protocollo una diagnosi diagnosi e protocolli cioè metodi sono trascesi inclusi come sappi come abbiamo detto nella nel processo ma questo processo è un processo triadico che comprende meta e il campo e quindi la posizione del terapeuta lo stato di coscienza del terapeuta la presenza del terapeuta sarà fondamentale nel processo trasformativo questo anche qualche cosa che alla fin fine banale non è quello che faccio o meglio quello che faccio è subordinato a come sono il mio stato di coscienza il mio il mio la mia presenza determina un campo che favorisce la trasformazione il modo col quale io ti guardo determina un campo che favorisce la trasformazione e questo ovviamente ci porta all'interno di dimensioni come dicevo prima ineffabili perché se io ti parlo di tra me e te c'è un campo e il mio sguardo determina questo campo tu mi gessi va beh la psicologia tra impersonale ti presenta un'epistemologia e un'ontologia che è in grado di poi con la dimensione noi sappiamo che la coscienza è stata lasciata fuori dall'ambito della scienza perché il problema di cosiddetto problema difficile no è difficile da da lavorarci allora viene lasciato fuori l'approccio transpersonale raccoglie la sfida di esplorare questi campi ineffabili queste dimensioni ineffabili di esplorare quello che succede quando io e te siamo in una relazione sintonica quando le due parti in relazione producono un campo più ampio e questo è il campio è il campo delle qualità è il campo degli archetipi è il campo delle dimensioni sottili che possono essere utilizzati in terapia l'approccio transpersonale cerca di alla fin fine perché in una certa misura si dice che ha una dimensione sciamanica cosa faceva lo sciamano andava nel luogo dove c'era la cura e la metteva in contatto con la malattia espande la coscienza vai nel mondo di sopra prendi la forza chiami lo spirito e lo fai agire sul problema andare nel luogo dove c'è la forza metterla in contatto con il problema come base della base nel senso di qualche cosa che gli sciamani hanno fatto per 40 mila anni prima della storia allo stesso modo alla fin fine con la facciamo espande la tua coscienza vai oltre la mente che ha creato il problema accedi alla dimensione più ampia transpersonale nella quale trovi le risorse trovi le qualità trovi la dimensione archetipica già realizzata e mettila in contatto con il problema torniamo all'esempio di prima dell'adolescente violento crea le condizioni per entrare in contatto con coraggio determinazione prontezza ineffabilità e metti queste qualità in contatto con il senso di impotenza e di violenza del ragazzo e falli dialogare crea delle condizioni nelle quali i vari personaggi dentro di te entrano in dialogo e soprattutto possono entrare arrivare in contatto con le qualità più elevate con gli archetipi e fare che queste risorse partecipino al processo di trasformazione della persona intanto grazie grazie davvero per per queste spiegazioni che ci ha dato noi non è la prima volta ci incontriamo ma mi sembra che progressivamente proprio attraverso attraverso questi incontri sono stati continui attraverso questi questi webinar che facciamo io ancora di più rispetto a prima ho capito tutto quello che che c'è nel tuo nel tuo scuola di psicoterapia perché stavolta sei stato ancora più capace di spiegazioni perché chiaramente abbiamo bisogno di spiegazioni ma non siamo dentro il percorso diciamo avvestativo posso fare una domanda dunque è molto interessante questo approccio transpersonale potrebbe sentire parlare anche di quanto è importante in che modo viene coltivato nella formazione l'importanza dell'approccio simbolico anche che collegamento c'è tra questo tra l'approccio transpersonale e i contenuti simbolici sì ti ringrazio di questa domanda che è molto significativa non a caso io ti ho parlato di archetipi che ovviamente sono simboli sono una lettura simbolica perché il simbolo può essere non dico che lo sia ma può essere considerato una dimensione cognitiva l'archetipo è incorporato coinvolge tutto il tuo essere allora se noi consideriamo il simbolo come qualche cosa che è incarnato allora certamente possiamo parlare di simbolico è come se gli archetipi fossero un insieme di simboli organizzati infatti ogni archetipo ha anche i suoi simboli specifici per esempio il guerriero ha una serie di simbolismi così come qualsiasi altro archetipo ha una serie di simbolismi e lo sguardo quando dicevo prima tu guardi la persona noi parliamo di livelli semantici quindi c'è il livello semantico della struttura superficiale che assiste a un fatto questo fatto può essere letto secondo una lettura in base al modello interpretativo che uno ha legge i fatti secondo un suo modello questa lettura che possiamo considerare una struttura profonda però ci parla ci schiude a una struttura se vuoi chiamarla simbolica o archetipica c'è sempre un archetipo una struttura archetipica profonda dietro che mette insieme simbolo che mette insieme diversi comportamenti o diversi fatti e quindi tu cerchi di accedere a quella dimensione di cogliere quella dimensione simbolica archetipica e quando quando accida a quello tu hai già fatto un salto di coscienza e hai già fatto un salto nella terapia perché favorisce nella persona l'integrazione di tanti aspetti che già vanno verso l'unità che già sono lotropici quindi se per simbolo noi intendiamo un concetto dinamico e pervasivo di tutto l'essere allora sempre cerchiamo di raggiungere questa dimensione simbolica la quale però conduce al simbolo per eccellenza che è il sé cioè all'unità, al concetto di unità quindi possiamo considerare il simbolo come via verso l'unità però come ti dico lo leggo più facilmente o quantomeno proprio come risonanza semantica mi piace più il concetto di archetipo ma credo che stiamo parlando di quella stessa cosa di cui tu parli allora, io due anni fa purtroppo ho perso mia moglie a seguito del secondo P-Spider però non è di questo che voglio parlare voglio parlare di quello che poi ho elaborato piano piano al tempo e la mia madre Cristina è rimasta in casa, nella sua casa ed è rimasta in una forma che secondo me, che ho detto oppure scritto Cristina è un archetipo, è l'archetipo della femminilità assolutamente sì, cioè la scrittura personale si muove diciamo dove gli angeli esitano per cui se tu vai in una dimensione un po' più esoterica ah ma come c'è lo spirito di tua moglie qui ma se tu vai in un'ottica appunto archetipica tutti coloro che nell'umanità hanno lasciato quella traccia di femminilità quelle qualità del femminile e sono un, come dire, un lignaggio sono un flusso di coscienza sono un campo nel quale tu puoi entrare e quindi tutti io, mentre tu parlavi, mi viene in mente mia madre io ho preso mia madre qualche anno fa inizialmente per almeno un anno non l'ho sentita era impossibile avvertire minimamente la sua poi ho cominciato a vederla qua poi ho cominciato a sentirla che è discesa nel cuore e adesso ha un sorriso nel cuore e allora uno può dire, sono tutte fantasie uno può dire, aspetta stiamo attenti diamo spazio a questo che cosa significa questo o che cosa è questo processo che è avvenuto a livello sottile rispetto a una perdita e ci sono delle c'è un epistemologia che te lo spiega in un'ottica appunto di archetipica di memoria di traccia di memoria di campo vibratorio per la quale c'è una connessi l'entanglement il contatto che è avvenuto per tutti quegli anni ti pare che scompaia perché una persona manca fisicamente è chiaro che quel contatto persiste ma questo è qualche cosa di assolutamente comprensibile secondo un'ottica transpersonale certamente quindi sì un campo archetipico possiamo dire una dimensione di coscienza che vive e soprattutto il campo è psichicamente significativo perché quella presenza che tu senti interagisce con te è significativa psichicamente non è una fantasia se padroneggi questo lavoro con il paziente quante volte si lavora con la madre che se ne andate piuttosto che certo lavori come se e tutto altamente grazie grazie grazie